E mentre si accantonano per qualche giorno settimana i libri, i giovani e le giovani nissene che hanno appena terminato gli esami di maturità guardano al futuro. C'è chi preferisce dedicarsi ad un'attività lavorativa, chi viaggio fa una lunga pausa con l'anno sabbatico, chi invece decide di iniziare una carriera universitaria proseguendo il percorso di studi iniziato alle superiori o prendendo una strada completamente diversa. In ogni caso è un'estate fatta di scelte per i ragazzi e le ragazze che si sono appena diplomati e tra queste c'è anche quella di restare o allontanarsi dalla propria terra, come nel caso della 19enne Gaia Giacone, diplomata con il massimo dei voti, che spera un giorno di insegnare e rimanere in Sicilia. È stata una soddisfazione soprattutto uscire con gente, quindi il massimo dei voti, soprattutto personale ma anche per la mia famiglia. Io spero di studiare qui, di lavorare qui perché comunque sono molto legata alla mia famiglia e comunque sono molto legata alla Sicilia, quindi non vorrei allontanarmi da qui. Adesso devo fare i test di ammissione per la scienza e la formazione primaria ad Enna, sperando comunque di raggiungere pure questo obiettivo e studiare lì. Mi piace insegnare perché l'anno scorso ho fatto un'esperienza in un villaggio turistico, a contatto appunto con i bambini dai 3 ai 5 anni e quindi questa esperienza mi ha fatto capire che in realtà i bambini sono il mio futuro e sono quello che in realtà potrei fare nel futuro, quindi insegnare a loro. Pensa invece di trasferirsi altrove la giovane Emanuele Miriam Sardo, la 19enne infatti, dopo aver concluso gli studi superiori e sostenuto le prove della maturità ottenendo persino la lode, si sposterà nel nord Italia per iniziare l'università e cercare in seguito un lavoro. Con la scuola mi sono appassionata a diritto d'economia, infatti appunto intraprenderò l'università di economia. La mia professoressa di diritto d'economia, la professoressa Lipani, mi ha fatto appassionare veramente molto di quelle che sono le materie e appunto mi ha portato anche il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento ad approfondirle ancora di più. Mi piacerebbe lavorare nelle multinazionali o comunque entrare nel settore bancario o finanziario. Quindi pensi comunque di andare via dalla tua città, no? Sì, sì, assolutamente. A fine agosto parto per Castellanza a Barese. Cioè penso di rimanere comunque nelle zone di Milano, spero.